Taggia Taggia, l'amministrazione comunale si congratula con l'allenatore della Nazionale Italiana di Beac Volley Matteo Varnier per il titolo europeo vinto in Lettonia. . Dopo la conquista del titolo europeo con la Nazionale Italiana di Beac Volley, il coach armese Matteo Varnier riceve le congratulazioni dell'amministrazione comunale. . 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